io sono roberto cordisco olivicoltore di terza generazione ho 56 anni e continuo la tradizione nostra di produrre olio e olive dai nostri olivetti l'ottanta per cento sono piante che hanno sono tutte del 1800 adesso abbiamo 37 ettari tutti nella nostra zona che particolare per la varietà provenzale è tutta biologica l'azienda la raccolta tutti gli anni inizia sempre intorno alla metà di ottobre il giorno della raccolta si va a verificare quando l'oliva inizia a cambiare di colore e dopo il raccolto entro le 24 ore per fare gli oli di qualità deve essere molito cioè deve essere subito estratto l'olio per mantenere i profumi freschi di vegetale di fruttato viene fatto con i sistemi moderni attuali però sono dei sistemi fisici cioè nel senso che viene macinato l'olivo lavato macinato e poi viene estratto oggi si fa il sistema centrifugazione l'olio nuovo è al massimo della freschezza cioè nel massimo del profumo e dell'aromaticità sono profumi di carciofo crudo appena tagliato di erba appena tagliata recisa da noi c'è un proverbio antico che diceva vino vecchio e olio nuovo